Chi lavora nella scuola è sottoposto in ogni momento a diverse forme di responsabilità legate non solo allo stato di dipendente pubblico, ma anche alle particolari funzioni svolte. Come tutti i dipendenti pubblici, anche i docenti e il personale ATA sono considerati responsabili in prima persona per i danni che derivano da eventuali comportamenti illegittimi. Ma cosa fa sì che un comportamento venga considerato illegittimo e quindi sanzionabile? In linea generale questo accade quando si infrange una regola. Si va dalle infrazioni più lievi e più semplici, come arrivare in ritardo a scuola o non rispettare qualche disposizione del regolamento di istituto, fino a violazioni di norme e disposizioni del codice civile o del codice penale. In questi ultimi due casi la questione è particolarmente complessa perché il docente, il collaboratore scolastico o l'assistente amministrativo rischia di essere chiamato in giudizio con conseguenze imprevedibili. Per evitare situazioni difficili e incresciose è bene quindi conoscere quali sono i rischi più comuni che si presentano nel corso della giornata scolastica, a partire dal dovere di vigilanza nei confronti degli alunni, che riguarda non solo i docenti ma anche i collaboratori scolastici. Ma non bisogna trascurare il fatto che le infrazioni alle regole possono determinare spesso forme di responsabilità disciplinare più o meno gravi. A questo proposito è importante ricordare che i procedimenti disciplinari devono svolgersi con modalità precise nel rispetto dei diritti del dipendente. di tutto questo parleremo nel webinar organizzato dalla nostra testata in programma nei giorni 19 e 25 novembre.